Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata creata da TommyMod, vi lascio il suo canale in descrizione E si chiama Level Olimpiadi Credo che sia un level asian Sì, a vederlo così, regà È un level asianino, andiamo Che Formula 1 c'ha, Ghiro? C'è il turbo? Sì, sì, regà Belli veloci Comunque non so se ci avete fatto caso, dottore, vedete fuori strada Per chi è scivolato, regà Tantissimo Ehi, superita Ehi, grazie, 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 va bene, va bene Va bene, basta che mi rimetto dritto e non casco di sotto Perché là c'è il check del teletrasporto Ci arriviamo? Sì, che ci arriviamo, voglio Andiamo, andiamo Dove? Di qua, di qua Dai, io non cerco, dai, rapidi Chi non c'è l'alettone, regge? Mi regge la F1 senza l'alettone? Ah, e nemmeno io c'ho la parte davanti, eh Respondiamo, respondiamo Belli veloci No, regà, dobbiamo respawnare di nuovo Praticamente Tommy deve mettere subito Il check della F1 Dai, regà, si sta a distrugge Così almeno ci dà quella nostra personalizzata Vediamo se ce la lanciamo Forse sarà meglio senza collisione Salta Salta Perché vai piano? Veloce Ok Allora, cosa dobbiamo fare qui? Sì Oh, non ce la fa salire C'ho io che rete Aspettate Ah, il turbo c'è, eh Che ci serve? E' qui con la collisione, regà? Eh, è un problema Che fine ha fatto Salta? Vabbè figo? Vabbè figo? Sì, teoricamente così dobbiamo fare Però non Non sembra facile Dai! Regà, che sfortuna c'ho C'ho io credo Andiamo, andiamo Ma dove andiamo? Che non c'ho un pezzo davanti Comunque le velasiano a tutti gli effetti Ma Scusate, eh Regge uguale? Allora l'effetto ottico, eh Regà Non c'ho la parte davanti a regge? Eh, no Qui non regge, vedete Finché vuole la raid normale Ce la fa E' intera, intera Dai Ce la dobbiamo fare, eh Due minuti Allora Non ho visto quanto era la challenge Allora Ok Chi è che ce l'ha fatta, Kiro? Dai, regà Perché? Che sfortuna Questo è da avviare Senza Collisioni Per forza Poi c'è pure la scia Colpa mia Che la metà fa la scia qui Non lo so Non ho idea Regà Come faremo? Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, veloci Dai che ce la dobbiamo fare Max Ti va sto turbo Che c'ho pure la scia Non mi sbaglia qui, eh No Per pochissimo Per pochissimo, regà Veramente, veramente Nulla Va messo quella parte lì Che non è facile, eh Bisogna entrare proprio in traiettoria Dal basso verso l'alto Ok Non c'è nessuno Quindi Se sbagliamo adesso Non ci abbiamo scuso, ok Dove, dove, dove Oh, oh, oh Ok, ho capito Così Perfetto Dove sta il wall raid? C'era il suino che stava qui Ok, siamo vivi qua Oh mio Dio Ok, c'è il wall raid qui Sì Sì Siamo vivi Kiro Kiro Allora Calmi, calmi, calmi Regà Dobbiamo Fare Un respiro Perché Io non ho capito Cosa ha fatto Kiro Non l'ho capito Tutta questa cattiveria Nei miei confronti Mi bullizzano I miei suini Allora State tranquilli Stiamo rilassati Che non è successo niente Vero? Non è mai accaduto Che mi ha scritto Kiro? Adesso leggiamo Aspettate che stiamo facendo Level Asium C'è questa parte Ok Non posso ancora leggere Allora Qua dobbiamo fare Così Ok Ok Ci siamo Ma Scusa sui Scusa sui Di nuovo Mi stai a far casca Ok Possiamo andare Allora Possiamo proseguire In santa pace Kiro Ah Dobbiamo tornare indietro Ah Scusa Kiro C'ha ragione E questo è face to face Poveretto C'ha ragione Sì Allora Respondiamo Respondiamo Per questo Tornava indietro Non ci aveva fatto caso Io pensavo che stavo aspettando Proprio per trollarmi Niente Niente Ci dobbiamo concentrare 5 minuti di level Asium No No Te non te buto giù Soldato Eh Ok Allora Ce la faremo Ce la faremo Non vi preoccupate Dai per favore Per favore Guarda lo soldato Che ce l'ha fatta Sì Ce l'ha fatta Dai raga A parte i scherzi Ce la dobbiamo fare Ce l'ha fatta sì Caretto Provo di sì No Ha sbagliato Ok Sali Ah Là c'è il cambio Ecco perché hanno sbagliato Però raga Mi sono appoggiato Alla guida Ma si è baccata Leggermente La mia XA21 No Troppo passi Può darsi No raga Allora Appena arriviamo A quel wallride Praticamente Dobbiamo stare Già alti Perché se tocchiamo Leggermente O metteva un container Perché praticamente Ha messo quella parte Come aiuto Non mi chiedete niente Qua Troppo bassi Eh raga Non è facile Sì 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 No Sì Mio Dio Comunque quella guida Mannaggia Ah qua facciamo Cioè scusate Qui abbiamo proprio La nostra F1 Sì Sì Ok Ok Qua bisogna fare così Perché adesso Siccome c'è il check Ci dovrebbe dare Cioè ci rimane Questa F1 Andiamo Andiamo Belli veloci Comunque per mettere La guida migliore È il container Che Praticamente Scivolare a Dio Si può appoggiare Mentre con quella lì Raga C'è qualche problema Infatti nel mio Levelazione Che avevo fatto Avevo messo un container Anche se non è proprio Carino da vedere Però se noi parliamo Non ce la faremo mai Vero Dai raga Aspetta Stiamo sbagliando Stiamo sbagliando Veramente tanto Vabbè che io Fatico tantissimo In queste parti Soli Soli Mamma mia Ok Adesso Ok Possiamo stare tranquilli Sì 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 Soli 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 Oh Ci siamo E adesso Andiamo 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 No ho sbagliato Oh Aspettate Eh se mi prendeva il turbo Andava bene Sono andato io Leggermente sulla sinistra Perché pensavo Che toccavo Invece no Credo che ha messo Il check Pure Abbiamo un altro check Vedo dei cambi Anzi Subito un cambio Abbiamo Eh no raga Dobbiamo stare Sulla destra Sì sì Andiamo Andiamo E che ce la dobbiamo fare Oppure centrali Vediamo Forse centrali Sì Ok Ok E adesso Così No 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 Non l'avevo visto Quel cambio Ok E lo Qua c'è un cambio L'abbiamo capito Ok Sì Siamo vivi Ok Credo di aver capito Sì Dove No Non l'avevo visto Non l'avevo visto Perché ho detto Perché c'è questa barriera Sentite No raga Dai raga Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Ehi Sì Allora Andiamo Ok Perfetto Non l'avevo visto Non l'avevo visto Proprio quel check Prima E chi è qui Ok Ok Ci siamo E adesso 12 minuti Su Sì 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 Così Aspettate che adesso Vediamo Scendiamo giù Sì 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 Siamo in traiettoria Qua Ehi Cos'è un cambio Ok Sì Olle Olle Qua c'è andata bene E adesso Ah di qua Perfetto Non è che non l'ha il simboletto Sì Respondiamo Respondiamo Dobbiamo stare tritti Perché c'è subito il turbo Ehi Ehi Barcoli Sui Ci siamo Dove Regà Non ho capito Mi devo rigirato Sì Dove regà Aspettate Aspettate che devo controllare Bisogna andare semplicemente lì Ok Ok Non avevo capito Allora Adesso ce la faccio Sì Ok Sali Giovi 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 è crashato Oh mio dio Che spettacolo Pure una bella miniatura E abbiamo completato Il level Olimpiadi Di Tommy Mod Spettacolare Andiamo subito a concludere A prenderci questa bella Primera Comunque sia Se vi è piaciuto Il level Asian Di Tommy Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate nel mio primo canale Porkmoz E nel mio terzo canale One Pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella